Ok ragazzi, loro sono i generali Strukov e Zagovni ed entrambi sono stati invitati a un congresso dalle parti di Kaliningrad. Ora, se per ringraziarli della loro presenza permetti loro l'accesso illimitato al bar dell'hotel, che cosa potrà mai andare storto? Il generale ha detto che dovete ricordarvi di bere con prudenza e morigenazione. E naturalmente nel caso in cui alziate troppo il gomito ci penseranno dei volenterosi militari russi a farvelo abbassare. Eh, si vede che è proprio adorato dai suoi ragazzi. Sventuratamente però non tutti i comandanti hanno la fortuna di essere così apprezzati dai sottoposti, dalla popolazione locale e forse anche dai nemici. Quest'uomo, per esempio, è il maggiore Oleg Stegachev. Guardate quanto è entusiasta di avere appena ricevuto una promozione. E poi, anche se le faccette di sua moglie e di sua figlia sono censurate, si vede lontano un miglio che una famiglia felicissima e orgogliona di lui. D'altronde il comando di un Tu-95 non è mica per tutti. Insomma, stiamo parlando di un bombardiere strategico che risale al 1956 e può essere equipaggiato con testate termonucleari. Anche se in realtà, nella pratica e nell'uso quotidiano, il Tu-95 di Oleg si è sempre e solo limitato a lanciare testate convenzionali contro i civili ucraini. E lo stesso Oleg, orgoglione di famiglia, ha pure rilasciato delle interviste in televisione, facendo così sapere a tutti, ma proprio tutti, come smarca il Lunario. E quindi non sapremo mai se, all'uscita dal bar, è stato ucciso da un rapinatore, dai servizi segreti ucraini, oppure dall'amante della moglie. Sono misteri, così come misteriosa la scomparsa di altri due generali. Sto parlando del grande e famosissimo Gerasimov, che è scomparso dai radar da circa un mese. Ed è l'ormai altrettanto famoso generale slash ammiraglio Sokolov, scomparso dai radar in concomitanza con il bombardamento del quartier generale della flotta del Mar Nero. L'ultimo fermo immagine di Sokolov che è stato distribuito dalle autorità russe è questo. Nel senso letterale del termine, infatti, durante la mezz'oretta di videoconferenza con gli altri comandanti, con il gerale Gerasimov e il ministro Shoigu, Sokolov non ha letteralmente battuto ciglio. Ed in ogni caso era così amato che non è ancora stato sostituito. Gerasimov, invece, come tutti sapete, è sempre stato presentato dalle autorità russe come l'ideatore della guerra ibrida. Quindi, se in giro ci sono tanti trollini filoputiniani, sappiate che la responsabilità è principalmente sua. A parte questo, normalmente Gerasimov seguiva Shoigu ovunque andasse, o forse era viceversa. Il punto è che Gerasimov stava sempre, comunque, ovunque, letteralmente alla sinistra di Shoigu. Adesso è da oltre un mese che alla sinistra di Shoigu c'è qualcun altro. Ora, vi prego, nel caso in cui lo avvistiate, prendete immediatamente contatto con Shoigu perché è fondamentale che Gerasimov venga ritrovato prima che Zio Vlad si accorga della sua assenza. Perché, come potete facilmente immaginare, se Zio Vlad scopre che Gerry è scappato o è sparito o, peggio ancora, è finito sottoterra, potrebbe fare una scenata mica male. E alla sua età è meglio evitargli certi stress. Quindi, ripeto, se avvistate Gerasimov negli Stati Uniti, in qualche ospedale russo, in zona ucraina, o che so io, l'avete trovato al bordo di una strada di sangue, comunicatelo a Shoigu. Insomma, restiamo umani. E a questo punto, qualche iscritto potrebbe anche dire qualcosa del tipo Avvocato, hai finito di scherzare con i generali russi che sono scomparsi? E la mia risposta non può che essere una. No! C'è infatti un altro ingresso in questa macabra top 20. E no, non sto parlando neanche del comandante dell'Ivanovet, il quale, a quanto ci risulta, ha condiviso il destino del resto dell'equipaggio e della nave. Infatti, benché la nave si trovasse relativamente vicino alla costa e non fosse lontanissima dal porto, i russi non hanno organizzato alcuna tempestiva operazione di salvataggio. Forse temevano che ci fossero altri droni marini pronti a colpire le navi che potevano arrivare in supporto per salvare i marinai, o forse, molto più banalmente, non erano pronti a una missione del genere e tutte le altre navi sono rimaste al porto. Fatto è che il comandante slash capitano della nave sembra essere deceduto insieme a tutti i suoi uomini. 44 perdite senza neanche tentare una missione di soccorso. E poi in Italia c'è qualcuno che fa il tifo, perché diversamente non si può qualificare, per i russi. Comunque vi stavo parlando di un altro generale. Lui è il generale Tatarenko. E naturalmente, oltre ad avere il grandissimo merito di possedere un cognome pronunciabile, era anche al comando delle forze aeree della base di Balbek. Nella Crimea occupata dai russi, a pochi chilometri da Sebastopoli, ma a circa 150 chilometri dalla linea di contatto con gli ucraini. Ebbene, non solo gli ucraini sono riusciti a colpire l'aeroporto neutralizzando qualche aereo e radar, ma hanno anche obliterato il centro di comando dove si trovava il generale. Il tutto ad almeno 150 chilometri di distanza rispetto al fronte. Ora, non ho avuto tempo e modo di raccogliere altre immagini, ma è un dato di fatto che gli ucraini in questo periodo si stanno concentrando sul neutralizzare i radar e le forze aeree nemiche distanza in Crimea. Ora, naturalmente, è sempre una buona, ottima regola quella di neutralizzare tutte le forze aeree nemiche. Ma in questo caso specifico, questa operazione è stata concepita in questo modo anche perché si sta avvicinando l'ora X, l'ora della consegna degli ormai mitici e certamente mitizzati F-16. Di conseguenza, se gli ucraini da una parte riusciranno a gestirli in modo adeguato e dall'altra i russi continueranno a gestire in modo completamente inadeguato la propria aviazione, forse gli ucraini potrebbero anche riuscire a recuperare del territorio occupato senza troppi sforzi e a cancellare il ricordo di una controffensiva che ha dato buoni risultati sul campo ma non ha portato ad alcun sostanziale avanzamento territoriale. Il problema principale per gli ucraini consiste nel fatto che i loro nemici più pericolosi non si trovano in Russia o nei territori occupati, ma bensì in Occidente e più precisamente dalle parti della Casa Bianca. Infatti i repubblicani, ma principalmente il repubblicano Johnson che è anche lo speaker, cioè colui che calendarizza gli ordini del giorno al congresso, continua a far rinviare le votazioni sui finanziamenti e sugli aiuti militari all'Ucraina. In questo modo gli Stati Uniti ormai non stanno passando praticamente più nulla agli ucraini. Chiunque abbia votato repubblicano di fatto ha votato per lo sterminio degli ucraini. Oltretutto sempre in area repubblicana stanno cercando di far passare delle leggi che oltre a essere palesemente incostituzionali sono tremendamente populiste. Per esempio c'è una senatrice che ha proposto di mandare tutti coloro che votano a favore di un intervento militare in prima linea. Cioè questa senatrice vorrebbe che i politici americani, i quali avranno un'età media di 80-100 anni guardando Trump e Biden, dovrebbero mollare tutto e andare in prima linea con i soldati di 20-25. In ogni caso comunque la Casa Bianca sta cercando qualche soluzione per far arrivare qualcosa. Per esempio Biden ha stretto un accordo con la Grecia, per quello non serve alcuna votazione perché la Grecia fa parte della Nato, attraverso il quale la Grecia riceverà nuove armi americane e potrà cedere le sue vecchie all'Ucraina. Non è granché ma è pur sempre qualcosa. Contemporaneamente l'Unione Europea e i singoli stati europei si stanno organizzando per fornire un maggior sostegno all'Ucraina. Si stanno lentamente riattivando le fabbriche per la produzione di proiettili, soprattutto quelli di artiglieria in Ucraina, ce n'è un bisogno disperato, e poi naturalmente si stanno inviando finanziamenti. Non è tantissima roba ma siamo riusciti a stanziare una cinquantina di miliardi da trasferire, se non erro, nell'arco dei prossimi quattro anni. Quindi 10 miliardi all'anno come Unione Europea. È sempre meglio di noi. Infine, gli ucraini cercano di indebolire ulteriormente il potere economico della Russia, distruggendo i terminal petroliferi per impedire per l'appunto a zio Vlad di vendere il suo petrolio e recuperare qualche centesimo da buttare via in spese militari. Al momento attuale gli ucraini sono infatti riusciti a distruggere quantomeno parzialmente gli impianti della raffineria della Lukoil. E hanno altresì sviluppato un congruo numero di droni che possono colpire i russi a lungo raggio. Ma di questo magari parliamo nel video di domani. Come sempre, grazie di tutto per tutto e a presto.